non lo so sinceramente ti dico la verità l'avevamo provato a preparare bene la gara insomma degli spogliatoi ho visto i ragazzi abbastanza concentrati sono stati bravi loro comunque a metterci in difficoltà nonostante fossero all'inizio in inferiorità numerica poi sono arrivati 11 giocatori quindi do più merito agli avversari che a una nostra mancanza di concentrazione sicuramente c'è stato del nervosismo che ci ha impedito di fare un buon primo tempo il segreto di questa stagione è stato proprio quello di cercare di allungare la panchina in modo da tenere una qualità abbastanza elevata perché essendo comunque un campionato amatoriale tutte le squadre, tutti gli allenatori ogni settimana hanno delle mancanze nei propri titolari quindi l'importanza di avere una rosa ampia, un organico comunque completo che dà possibilità comunque di mantenere un livello sempre molto alto e importante secondo me è stato fondamentale per proiettarci così in alto in classifica per essere in alto in classifica Riccardo non è proprio il nostro primo rigorista quindi poi si sarà parlato col giocatore perché stasera i nostri due rigoristi titolari non erano presenti quindi penso che l'abbia lasciato perché forse se l'è sentito di più Riva anche perché lui lotta per la classifica capocannonieri penso sia stato anche un gesto del capitano insomma un segnale per fare gruppo tra virgolette grazie al presidente Bastesina a presto e buon proseguo grazie a te saluto